Salve a tutti, ciao a tutti qui da DJFire98, benvenuti in questo nuovissimo video. Questa volta giochiamo per la prima volta a Battlefield 3, diciamo io questo gioco ce l'ho da tempo, però è da parecchio che comunque mi devo un po' riscaldare. Comunque questa partita giocheremo a canali, modalità di halfmatch, quindi classica, di halfmatch a fazioni, scusate, allora sono di livello 30 credo, comunque ho delle buone armi. Allora, innanzitutto parto con... ecco, col fucile a pochi. Allora vi dico che non sono forte, non sono né scarso né forza, un po' tutto e tutto. Dipende che mappa gioco, dipende anche che l'arma che ho, tipo adesso sto facendo schifo. Oh, ho colpito qualcuno, ho colpito qualcuno, credo di aver colpito qualcuno. No! Aspetta, alziamo il volume dell'audio. Allora, azioni, audio. Ok. A posto, salva, sì. Ok, riprendi. Mettiamo la cazzetta andata. Devo dire qua che ci sono parecchi giocatori nabbi... Che camperano qui, di camperoni, che ne stanno parecchi. Certo, l'imbarazzo della scelta. Però questo fucile a me non piace. Nessuno? No! Bastardo! Eccolo! Eccolo col fucile a pompa! Col fucile a pompa! Rienimato! E' questo ancora qui nell'avvicinante. Dov'è? Vabbè, le bombe sopra... Ma dai! Mi serve... C'ho l'1% di vita, aiuto! Mi serve... Ehi! Assistenza e uccisione! Bene, bene, vabbè. Giacchiamo bene. Abbiamo già 261 punti. Beh, non siamo pessimi. Continuiamo a giocare, allora. Siamo... Ah, siamo a un vantaggio pure, quindi... Non siamo messi proprio male male. Ma si pare che non ce ne ho colpito un altro con la bomba. Ma non mi riuscì, io colpisco con la bomba. Sì! Sì! Vendicatore, mi sono vendicato! Ok. Ah! Aiuto! No, no, no! Ecco, oh! Ma che non lo so io? Le fucile a pompa lo sanno loro, no? Sa che? Me lo metto pure io. Questo che vuole? No. No, metto questo... No, ho sbagliato tutti. Vabbè, dove metto quell'altro che farà... Oh! Ecco là! Ecco il camperone, ecco. Il camperone di turno. E' sempre lì. E vai! Assistenza! Va bene, va bene lo stesso. Quindi sono a... Non si vede più perché sono sotto. Allora, se dovete scrivere i commenti che faccio schifo, che non so giocare, non lo scrivete. Perché lo dico io che non so giocare bene, va bene? Lo dico io, guarda. Non so che lo scrivete voi! Ma dai, ma non si può fare così. Questi giochini camperone. Sono questi. No, con quello mi... Scusate. Oh! Fatto fuori. Allunga. Sarà da parecchi mesi che ho un giocabatto e più tre? Ehi, forcellino! Quanto vitto si... Ehi, vabbè. Con fucile a pompa, vedi? Con fucile a pompa. Con fucile a tutti con fucile a pompa. Tutti a fare in abito. Sì, io usavo il fucile a pompa. Però, dopo un po' cambiavo. Cioè, non rimanevo sempre con lo stesso cucile come fanno alcuni. Che ci si cognano, vedi? Oh! Oh! Un altro nemico. Ho sciso. Questo non... Guarda. Mi è cuciso. Credo di aver fatto anche il shock. Quindi... Vuoto. Bu! Bu! Sette te! No! Bastarda! Quella luce tattica! Odio le tappi. Odio da morire le tappi. Aspetta. Anzi, dopo... Dopo! Ricambio un'altra volta. Fuscile. Sì! Eh... Vedi? Cioè... Non posso neanche muovermi. Che... Chissà... Non parliamo, là. E C4. Ecco, bombe C4. Tutti esplosivi. Tutti esplosivi. Guarda! Colpito! Oh, assistenza. Cecchino, vedi? Oh, allora... Vengo ucciso, se ti notate. O da camperoni... O da cecchini. Oh, dai! Idioti che lanciano i C4. Dall'alto. Io rianimo solo se vengo rianimato. Potremmo essere... Sì, sono stato rianimato! Sì, subisci, bastardo infame. Oh, oh. No! Che culo. Cosa? Aiuto! Sì, sì, sì. Aspetta, non mi hai visto. Non mi hai visto. No, mi hai visto. Mi hai visto. Vabbè. Vabbè. Oh, oh, oh. 4... 4... 15, 1057 punti, dai. Pingo, non so perché pingo a 300. Prima pingava 60. Un piccolo picco. Piccolo perché pingavo a 1000 una volta. Nemico ucciso, un indicatore. No, doppia uccisione. No. No. Uccisione più assist. Buono. Dai, che ci sta prendendo mano. Piano piano. Ah! Oh, trapoide! Sì, va bene. Brava, ecco, morto. E rimani lì. Lolle, è cascata. Fugile a pompa. Oh, vedi? Ma che botta l'ho avuto? Sì, vabbè, ma appena... Ma spono? Non sono dieci. Oh, rianimato. Grande. Allora, il prossimo lo rianimo. Ho visto qualcuno sul tetto. È possibile? Sì! Sì, 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 sì. Tutti morti. Oh, 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 oh. Tutti morti. No! Dov'è? Ma ve... Ma... Oh, ma come fa spawnare lì? Scusami. Guarda, vedo, vedo notare i miei FPS. Sono per ora ancora in giocati. Presto... Eccolo là. Guarda, se ci potessi gettare... Ma questo qua lancia... ...per fa esplodere i cicli. Sì! Oh, ci volevi provare ad abbastarti, eh? Ecco, un trucchetto che sono in avvia. Si abbassano, si mettono così e sparano. Io non l'ho... Io sinceramente non lo uso, sto... Perché mi sta pure scomodo. No! 78... Oh! Puppiamo... Oh, l'MP7. Spara rapido. Spara pure bello veloce. Però peccato che... Ciao. 21 toni. Se ce n'avessero i 30 sarebbe... No! Dai, dì. Oh, cavolo! No, non lo vai via! Ok. Ma che... Che ho visto? Una bomba! Ma non mi sono girato troppo! Aiuto! Sì! Oh! Ho sbloccato un mirino! Non è andata! No, 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 no! Un altro nemico! Oh! Strage! Porca, trovi! Tripla uccisione! Tripla! Tripla uccisione! Ecco, qua! Vabbè! No, l'MP7 però... Cioè, su questa mappa è un po'... Beh, facendo... Io che non faccio mai triple uccisioni! Vengo ucciso subito dopo... Mezza uccisione! Ecco, no, questo è un colmita! Camperone! Vedi, camperone! Ecco qua, scusate ragazzi, ma c'è stato... Si è chiusa l'applicazione... Cioè, si è chiuso il gioco all'improvviso perché... Credo che avevo troppi programmi aperti! Comunque! Però vi sia piaciuto il video! Comunque, continueremo sicuramente! Prossima mappa, credo, operazione metro! Sempre The Atman, c'ho conquista! Vabbè, poi mi organizzerò! Comunque, un saluto a tutti da DJFair98! Comunque, ugualmente! Comunque, un saluto a tutti! Ampere! E, oggi si raffaccia!